Grazie signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per farle una richiesta e le chiedo di consentirmi di contestualizzarla con cinque concise osservazioni. La richiesta si riferisce all'episodio su cui ha riferito ieri all'aula il collega Paragone, ovvero al fatto che siano stati rimossi dal canale YouTube di BioBlue, che è una testata giornalistica registrata, tutti i contenuti accumulati negli ultimi dieci anni. Faccio quattro brevissime considerazioni prima della richiesta. Innanzitutto questa è una decisione che danneggia soprattutto l'azienda. Google non è un monopolista nei servizi in cloud e è abbastanza sorprendente che ci tenga a far sapere ai suoi clienti che i dati non sono in sicurezza e svegliandosi domattina potrebbero non trovarli. Faccio un rapidissimo inciso personale, me ne scuso, ma questo è anche un intervento per fatto personale. È grazie a Google che io sono qui perché Google ha ospitato quel blog che, dandomi visibilità nel dibattito, mi ha consentito l'onore di essere vostro collega. Quindi è molto strana questa decisione, da utente soddisfatto di Google domani cercherò alternative sul mercato. Un altro tema che sottopongo a tutti voi è dove vanno a finire i dati quando succede una cosa di questo tipo. Un video sono anche reazioni e commenti degli utenti. Potrebbero essere conservati e utilizzati a fine di profilazione politica. Io interpellerò su questo l'autorità garante. Un terzo punto, rapidissimo, ricordiamoci che, eppur si muove, ai suoi tempi, quattro secoli fa era una fake news. Dieci anni fa l'austerità fa male era una fake news, ma solo su Bio Blu chi voleva argomentarla poteva trovare spazio. E il Paese dovrebbe essere grato a chi ha consentito di anticipare i tempi del dibattito, dicendo dieci anni prima quello che oggi ci ricorda il signor Presidente del Consiglio dei Ministri. Infine, ultima sottolineatura prima della richiesta, che sia motivo di orgoglio per tutti noi, dal 24 marzo è finalmente operativa la web tax. Questo significa che l'Italia è riuscita a, come dire, imporre una norma di civiltà ai giganti del web, dove l'Europa è ancora in ritardo e l'Ox in grande ritardo. Quindi si può avere a livello di Stati nazionali un'interlocuzione. Approfittiamone per una riscossa di civiltà non solo sul piano fiscale, ma anche su quello dei diritti fondamentali, come quello della libertà di espressione. E quindi vengo alla richiesta, ringraziandole per il tempo che mi ha accordato. Noi siamo un ramo del Parlamento sensibile a questi temi e guidati da una giurista sensibile e illuminata come lei. Le chiedo di poter incardinare un dibattito su questi temi che possibilmente giunga a una risoluzione, o comunque un atto di indirizzo del Governo in questo ambito, e anche di favorire l'iter di un disegno di legge su questa materia che come contenuto minimo dovrebbe avere, lo riferirò col collega Moles, la richiesta di sottrarre, di schermare le testate giornalistiche registrate che sono sul web dal meccanismo delle segnalazioni, che sono il meccanismo utilizzato dalle squadracce digitali degli haters organizzati per far rimuovere i contenuti a loro sgraditi. Grazie signor Presidente. Senatore Bagnai, la ringrazio per aver posto all'attenzione di questa Assemblea un tema così importante e lo porrò all'attenzione della prossima Capigruppo. Grazie. Grazie a tutti.